Grande sofferenza, però insomma era un traguardo che era troppo importante al di là di come ci sarebbe arrivati una partita magari non bellissima, una partita sofferta con tanto in palio, l'importante era arrivare. Credo che al primo tempo abbiamo fatto molto bene, ci è mancato il gol, abbiamo avuto 3-4 occasioni è chiaro che la posta in palio era altissima, è normale che ci fosse un po' di tensione. Detto questo devo fare veramente i complimenti alla squadra perché siamo andati sotto, il contraccolpo psicologico poteva essere molto molto pesante, invece piano piano ci siamo ripresi, un passo alla volta abbiamo pareggiato e poi l'abbiamo portato a casa anche grazie all'appoggio oggi veramente di una curva straordinaria che ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Adesso parte un nuovo campionato, vediamo quello che succederà però davvero oggi voglio ringraziare i tifosi e ringraziare la squadra perché insomma anche se sono qui da poco, se mi potevo immaginare una vittoria me la sarei immaginata in questa maniera perché nella sofferenza poi ti forgi a carattere, ti permette anche di guardare avanti con grande consapevolezza. Al di là degli avversari sul campo la sensazione è che questi ragazzi combattano contro se stessi, contro la propria testa contro le proprie gambe che magari non stanno girando alla grande. Sì, io faccio sempre un esempio perché poi è facile dire ai giocatori sono privilegiati e tutto il resto però faccio l'esempio, uno che soffre d'ansia è facile di smetti di soffrire d'ansia non è che da oggi a domani smette, è un po' la stessa situazione nostra non è che soffriamo d'ansia ma non siamo chiaramente sereni in quest'ultimo periodo per i risultati, per quello che ci succede intorno per comunque il dover raggiungere un obiettivo che stasera abbiamo raggiunto ma che chiaramente all'inizio dell'anno era al minimo. Però ripeto, credo che la partita di oggi ci possa dare veramente grande fiducia, consapevolezza e chissà, insomma entriamo nei playoff anche con la possibilità, credo, a prescindere da quello che succederà nelle aule tribunali di giocare la prima partita in casa e questo è importante. Ultima cosa, si è visto degli spunti secondo me interessanti quando il Verona ha provato a giocare in velocità senza stare tanto con il giro palla questa è una chiave insomma che tu hai dato alla squadra? Sì, sì, quello che voglio io ripeto il giro palla deve essere funzionale per smarcare poi i giocatori davanti in verticale, non per tornare indietro questa è un po' la mia filosofia ripeto, io sono qui da... ho fatto in realtà cinque allenamenti perché prima di Cittadella era solo un recupero quindi adesso avremo una settimana in più speriamo due se rimandano i playoff perché comunque possiamo lavorare e chiaramente lavoriamo anche con una testa diversa le prossime settimane. Ciao mister, complimenti Ciao Gianluca vorrei sapere se è arrivato prima l'abbraccio di Cesar nei tuoi confronti o l'urlo del Bentegodi sulle gol di Di Carmine sul rigore che non l'hai guardato sei rimasto quello di un tempo no, era troppo importante tra l'altro io i rigori non li guardo quasi mai penso per una frazione di secondo l'urlo del Bentegodi Cesar bisogna fargli una preparazione diversa se vogliamo no, a parte gli scherzi è una grande gioia per me insomma ripeto, sembra scontato però venire qui, prendere una squadra comunque un po' in difficoltà e avere adesso un sogno da portare avanti per me insomma è allo stesso modo un sogno io ho vissuto tanti anni qua e guidare questa squadra per me è sempre stato davvero uno degli obiettivi della mia carriera allenatore l'ho detto nella presentazione sarei venuto qui anche per mezzo tempo, non per due partite adesso ce ne rimane altre vediamo quante speriamo tante speriamo tutte la mossa di Colombatto anche quella è fortuna è bravura che cos'è? perché dopo due secondi è se prendi gol sono sbagliati i gambi se li fai è bravo l'allenatore quindi dai oggi sono bravo gli insulti l'ho preso la scorsa settimana la prima persona che hai visto tornando negli spogliatoi non so il presidente qualcuno ti ha detto no nessuno in particolare credo che c'è in questo momento tiriamo un sospiro di sollievo ecco perché alla fine vista anche la partita che dovevamo affrontare non era così semplice vincerla col pari credo che saremmo stati fuori avevamo un solo risultato a disposizione e l'abbiamo ottenuto quindi come ho detto la gioia per entrare nei playoff è grande detto questo ci rimbocchiamo le maniche andiamo avanti e entriamo nei playoff per vincerli insomma non per fare la comparsa ciao mista ben trovato oggi è stato determinante un giocatore che in questo campionato ha avuto più bassi che alti palo di Samuel Di Carmine una doppietta decisiva per lui il ottavo gol in campionato la prima doppietta per altro in maglia giallo-blu sì sono contento per lui io conosco Samo un ragazzo sensibile ha bisogno dell'appoggio della gente oggi può essere un nuovo inizio veramente può essere un nuovo inizio perché comunque ha trascinato la squadra ha fatto un'ottima partita a parte due gol ha lottato su ogni pallone questo che la gente chiede da lui e questo è quello che io voglio da lui il gol poi è una conseguenza nel calcio le cose cambiano rapidamente per un allenatore per un giocatore per una squadra glielo ho detto prima della partita durante la settimana da tra virgolette giocatore discusso può diventare con questi due gol e magari con altri nelle prossime partite può essere visto in maniera decisamente diversa insomma speriamo succeda questo ciao mister buonasera ti chiedo innanzitutto ecco ho messo l'accento prima sul fatto anche del pubblico è stata una stagione tribolata da questo punto di vista perché il Verona ha deluso le aspettative fino a riuscire a raggiungere se non altro i playoff per adesso giocarsela ecco c'è un nuovo patto di unità anche con l'ambiente con la piazza che può essere nato e che a me personalmente pare che sia nato con la vittoria di oggi poi naturalmente bisognerà traslarlo infatti e in ulteriori prestazioni di qui a quello che sarà poi il playoff è questa una chiave importante che può essere quasi fondamentale per il tuo Verona assolutamente sì non ho detto a caso che il pubblico ci ha trascinato ma credo sia nato ieri anche col comunicato della curva perché comunque i ragazzi la squadra ha capito che la curva li spingerà fino in fondo e oggi la squadra ha reagito dopo che è andata sotto anche grazie al fatto che comunque non ci sono stati i mugugni non ci sono state c'è stata un'unità di intenti per trascinare la squadra alla vittoria è un nuovo inizio sicuramente toccherà a noi continuare a fare quello che abbiamo fatto oggi i playoff come si giocano come si vincono io l'ho giocato una volta quando erano eravamo in quattro con il Novara e andammo fuori contro l'Empoli ci vorrà testa insomma la prima partita penso che la giocheremo in casa vediamo chi sarà l'avversario ad oggi credo lo spezia giusto? adesso lo spezia poi non si sa se cambierà quindi si giocano con convinzione insomma dobbiamo insolutamente cercare di partire forte cercare di vincere la prima gara e poi vediamo insomma quando ci sono partite andate e ritorno sarà sicuramente un altro discorso però è anche importante aver vinto per aver raggiunto comunque la possibilità di giocare in casa la prima e avere due risultati su tre mister oltre a Di Carmine che ha fatto una doppietta io oggi personalmente ho visto un grandissimo Laribi un altro giocatore che quest'anno è stato molto contestato è questo il vero Laribi? Laribi è un giocatore forte in categoria l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario a Cesena l'avevo visto in settimana molto determinato come ho detto il fortunio di Pazzini si ha scompigliato un po' le carte però sinceramente l'idea era quella che avevo detto in preparazione della partita l'altro giorno di tornare a fare cose che abbiamo fatto con situazioni un po' diverse quindi Laribi conosce bene questo modo di giocare tra l'altro un giocatore più tecnico rispetto a Matos dall'altra parte si integrano benissimo tre davanti e oggi lui ha fatto una grande partita però parlare di uno solo insomma di Carmine di Laribi sarebbe non dare giusti meriti anche agli altri perché oggi insomma Colombatto è entrato ha preso il rigore decisivo quindi si gioca 10 minuti un quarto d'ora si può essere determinanti questo deve essere lo spirito che anima la squadra lo spirito di gruppo mister hai avuto pochissimo sono qua hai avuto pochissimo tempo per incidere parlavi di 5 allenamenti per uscire dal limbo di quello che era il Verona di prima e diventare il Verona di Aglietti su cosa agirai nei 7 giorni o 14 per cambiarlo e resettare e ripartire come hai detto te un nuovo inizio sul fatto di innanzitutto una solidità di difensiva importante perché comunque questa squadra con la qualità deve innanzitutto essere una squadra che concede poco agli avversari questo non significa poi essere difensivi significa fare una fase difensiva di un certo livello e cercherò insomma di mettere quelle che sono le mie idee per quello che riguarda questo aspetto dopodiché appunto quello che ho detto l'altro giorno insomma non dobbiamo assolutamente snaturare la squadra dobbiamo continuare a lavorare su quelle che sono le qualità e il possesso palla però deve essere un possesso palla più finalizzato e più incisivo insomma nella verticalità questo soprattutto è quello che chiederò alzerando tutto il playoff credi che anche i timori le paure il bagaglio di negatività di frustrazione che aveva il Verona possa essere cancellato non lo so questo non lo so importante potevamo essere qui insomma a giudicare un'annata di un certo tipo siamo qui a a sognare un'annata di un altro tipo quindi intanto godiamoci questa vittoria come ho detto per come è giunta ancora più bella e da lunedì inizieremo insomma a ricaricare le pile e a pensare a playoff ragazzi hanno avuto una settimana anche a livello di testa pesante preparare la partita non era facile quindi aver raggiunto l'obiettivo ci sta anche che ci possa scaricare un po' e quindi questo può essere sicuramente un fatto molto molto importante per noi ciao ministro guglielmo lunghi della gazzetta ti chiedevo due cose mi sembra che una delle chiavi del vittorio il fatto che siete riusciti a schermare è perfettamente greco che è un po' la chiave del gioco del Foggia e sul gol di Mello c'è una responsabilità da parte dei difensori perché insomma lui riesce a girarsi a fare un gran tiro però al di là che poi viene tenuto in gioco abbastanza ingenuamente da Davido ha ragione abbiamo lavorato molto bene su Greco con Di Carmine in prima battuta cercando di non farlo giocare poi quando si alzava andava a prendere Augusta e l'hanno fatto molto bene sì sul gol l'ho già rivisto e correggeremo l'errore c'è stato un errore c'è stato l'errore poi è stato bravo anche lui gli Mello insomma le qualità degli Mello non si discutono però potevamo muoverci in maniera diversa dovevamo muoverci in maniera diversa sì quella è una pallalina libera non bisogna accorciare bisogna scappare a prescindere dal movimento che fa l'attaccante però ripeto penso che sia stato l'unico errore insomma che abbiamo fatto dopo il primo tempo ero molto fiducioso che avremmo vinto la partita purtroppo abbiamo riniziato secondo tempo un po' al piccolo trotto e lì la partita è un po' girata fino al gol però poi veramente ragazzi come ho detto anche a livello caratteriale oggi hanno dimostrato di esserci non solo a livello tecnico e questa è la cosa che a me più mi interessa parleremo parleremo dell'errore fra di noi l'errore insomma è prima non bisogna concedere la palla libera e poi bisogna agire in modo diverso è normale che gli errori ci sono cerchiamo di limitarli cerchiamo di non allo stesso modo insomma chi non fa non sbaglia quindi analizzeremo bene nel tutto l'errore insomma